A te piace il concetto della paternità e della maternità? Sì. Tesoro, vedi, io credo molto nella paternità perché i bambini sono persone meravigliose. Caro Jonathan, guardi, con gli omaggi dell'azienda, auguri ai figli maschi. No, bella coppia. Grazie. Ti piace? Bene, basta, le prostità, partiamo col bastonato. Questo è il vero motivo che mi sono arrivato. Cattivo. Vediamo la valigia, soprattutto il cosa ha scelto di portare. In tramvedo dei cappellini, gros grain, uno dopo l'altro. Carino campagnolo, se più campagnolo è più panteona sexy. Ma entrambi, guarda, Jonathan. Io opto di una seconda, ma vediamo, vuole difendersi perché si vergogna. Lo stai a dirgli che mi sono un cappello di un chilo. Accendiamo, vediamo com'è. Ah, che panteona! Veramente, non c'è bisogno di fare già i gesti, ha fatto televisione in passato. Brava, la ragazza ha un plomb. Ci piacciono questi colori. Come sono questi abitini leggeri, una maglietta, un pantalone, un ciso? Questo è un abitino. Ho detto bene, un abitino. Facciamolo vedere. Molto carino. Ci piace. La collana di perle è tornata di moda. Audrey Hepburn, icona di questo millennio. Utilizzate la collana di perle, che vi valorizza. Ma in serio? Carmo di qua, mi lancio così. Allora, vediamo il bianco di lycra. Bello, ma non si capisce cos'è, fissa su una parte. È bello, è bello. Orribile, non voglio neanche sentire da chi l'hai presa cos'è. Via, la butto su mia camera. L'ho ucciso, 20 punti. Perfetto. Ha portato la borsettina. Ma la voglio usare, la tua è in passare. Sì, dai, dai, siamo. No, non lo so, a fare il tuo, lo sai che il look, oggi te lo crei da solo. Ho saputo che tu hai il color verde. Sì. Ma non c'è niente di vero danale.